Bella a tutti ragazzi, sono Orgasmic e sono qui a darvi il benvenuto in questa nuova serie che come vedrete dal titolo in miniature si chiamerà Ignoranza to Glory, è una nuova serie che volevo portare sul canale, molto molto easy, c'è una serie proprio divertente da fare così un po' per passare il tempo e comunque per divertirci un po' su questo FIFA che magari quest'anno non ci fa divertire così tanto almeno parlo personalmente, però come sarà strutturata questa serie? Allora, questo episodio è un episodio introduttivo in cui vi mostro le regole, se così si possono chiamare, di questa serie Allora, è una serie in cui serve la vostra collaborazione, di tutti voi, cioè in questo video, sotto questo video nei commenti vi chiedo di postarmi, linkarmi una squadra fatta su Futeed o su Futweeds o comunque quello che utilizzate voi per creare squadre, squadbuilder con, secondo voi, la squadra più ignorante possibile mi spiego, questa serie è incentrata sull'ignoranza calcistica quindi ricordiamo che l'ignoranza nel calcio non è un difetto bensì una virtù quindi fare una squadra ignorante, che comunque deve essere anche abbastanza forte perché altrimenti non la concluderei mai lo scopo di questa serie qual è? Vincere un torneo adesso dipende ovviamente dalla squadra, comunque penso che sarà il torneo oro con questa squadra qui, con questi giocatori abbastanza ignoranti quindi non sarà neanche facilissimo perché se abbiamo, che ne so, cotta fava in difesa capite bene che non sarà facilissimo vincere il torneo oro considerando anche le squadre che hanno gli avversari quindi è anche una prova abbastanza interessante, però io penso che sia abbastanza interessante da fare divertente, lo spero quantomeno comunque ogni episodio conterà un solo match, una sola partita in live commentary quindi vedrete tutte le mie sclerate, gli insulti ai giocatori di un torneo ovviamente, quindi dal prossimo episodio si partirà subito con la prima partita dopo avervi fatto vedere la squadra, con la prima partita della stagione, diciamo così quindi cosa ho deciso? Ho deciso che io valuterò tutte le vostre squadre che mi lascerete nei commenti mettete ovviamente i giocatori che volete, quello che volete e poi farò una sorta di selezione, selezionerò la squadra migliore da utilizzare o comunque prenderò dei giocatori da una, dei giocatori dall'altra metterò la squadra che secondo me è la più competitiva tra i giocatori ignoranti che mi invierete e quindi poi si partirà da quella ovviamente i giocatori saranno penso pressoché tutti italiani o comunque sia che arrivino dalla serie A e dalla serie B quindi magari anche fare un'ibrida tra i due campionati ovviamente non altri campionati altrimenti verrebbe impossibile poi raggiungere quanto meno l'intesa perché almeno l'intesa vorrei raggiungerla con questa squadra comunque per dire vi faccio degli esempi potete farmi una squadra con giocatori tutti italiani visto che di ignoranza ne sportiamo in tutto il mondo per esempio che ne so, un attacco con Immobile e Insigne a me mi risulterebbe abbastanza ignorante poi non lo so, vedete voi cosa preferite spero che questa serie non vi piaccia comunque vi faccia abbastanza divertire anche perché ripeto è una serie molto easy molto tranquilla da fare così tanto per passare il tempo vi invito raga, questo video era abbastanza breve solo per spiegarvi un po' com'era questa serie l'introduzione vi invito a lasciare un bel like 300, 400, 8000 mi piace uscirà un nuovo video il secondo episodio di questa serie importantissimo lo ripeto lasciatemi nei commenti delle squadre o tanti giocatori così che io possa scegliere tra quello che mi mandate voi e un po' anche le mie preferenze la migliore squadra da buttare giù e ovviamente anche il modulo da utilizzare o le istruzioni dei giocatori o quello che volete voi scrivetemi tutto nei commenti tutto quello che volete tutto quello che sapete e tutto quello che pensate sia meglio dire per rendere migliore questa serie vi invito a iscrivetevi al mio canale pagina facebook, twitter, instagram tutti i link come sempre li trovate in descrizione noi ci vediamo con il prossimo video il secondo episodio bella raga